Avevano occupato abusivamente delle case popolari dichiarate inagibili e proprio lì era stato creato un vero e proprio supermarket della droga. A Ribera, in via Tevere, c'era un intenso via vai di giovani che andavano ad acquistare cocaina, marijuana e hashish. Sono sette i pusher, tutti di nazionalità tunisina, ad essere stati finora arrestati. Sei in territori di Ribera, uno a Caserta, altri quattro sono al momento ricercati. Uno di essi a Caserta c'era andato presumibilmente per trovare la fidanzata, ma sarebbe stato tradito dai social, avrebbe infatti pubblicato la sua trasferta su Facebook aiutando di fatto gli inquirenti. Ben 200 gli episodi di spaccio contestati anche durante il periodo di restrizioni dovute al covid, la droga infatti veniva fornita a domicilio. Per incastrare gli spacciatori sarebbero state piazzate delle telecamere in punti strategici della Movida sul lungomare di Secca Grande. Segnalati più di 30 ragazzi, alcuni dei quali con meno di 14 anni. Attraverso l'utilizzo di unità cinofile sono stati complessivamente sequestrati 20 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, oltre a circa 2000 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sequestrati anche dei monili in oro di modesto valore, presumibilmente consegnati dagli acquirenti per pagare la droga. I carabinieri di Ribera, dallo scorso mese di marzo, hanno eseguito numerosi servizi di osservazione dell'intera area. Le telecamere hanno consentito di documentare il profondo stato di degrado e illegalità diffusa in cui versava l'intero quartiere. Gli acquirenti in alcuni casi non andavano via subito, ma si intrattenevano nei luoghi dello spaccio per consumare la droga ed assumere alcol. Gli arrestati sono soggetti di origine tunisina tra i 40 e i 23 anni, senza fissa dimora, la maggior parte gravati da precedenti penali. In carcere, nelle case circondariali di Agrigento e Caltanissetta sono finiti Ben Addi Hamed Eddi, di 38 anni, Gazel Mohamed, di 28 anni, Esid Yozri, di 24 anni, Mechri Salem, di 28 anni, Maju Hayem, di 28 anni e Ayi Asen Lofti, di 23 anni. Mentre Ben Amer Rafek, 23 anni, è stato sottoposto al divieto di dimora nel comune di Ribera. Denunciare sempre qualsiasi episodio di spaccio, sappiano tutti che noi siamo a disposizione e che cerchiamo di reprimere in ogni modo il fenomeno. In più, sicuramente questo dà un seguito anche alle attività che hanno fatto sia l'amministrazione comunale che la Ciprete e gli altri parroci del comune di Ribera che stanno facendo tanto per aiutare le famiglie, per denunciare il fenomeno e per fare un centro di ascolto per i ragazzi in difficoltà. Il fenomeno deve essere affrontato a 360 gradi, non basta l'attività repressiva.